Shalom, Shalom, Shalom Eccoci qui con una breve lezione e prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai, nostro re, salvatore, renentore e nel nome dello Spirito Santo, Rukhah Kudash Bene, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great New Stone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità Pace e saluti ai eletti di Yasharala che sono sparsi nei quattro punti della Terra Questa lezione sarà breve Yahweh Hashem Yahweh Shai Volendo e parlerà di coloro che chiamano i bene e male i male e bene visto che nella società che viviamo oggi sono stimati coloro che fanno tutte le cose contrario al comandamento dei Padre che sono visti più grandi un bel esempio sono i così chiamati celebrità ok questi qua cioè mettiamo, prendiamo per esempio i cantanti, i rappe dicono diverse cavolate nelle canzoni parlano di fornicazioni, parlano di idolatria di soldi, 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 donne, donne, donne droga, droga, droga e niente altro ok? questa gente chiamano i bene e male i male e bene ok? e prendono in giro coloro che hanno la verità che fanno una vita fuori da queste cose qui li prendono in giro e la stessa cosa come i politici i legislatori portano fuori diverse leggi che vanno contro i comandamenti dei Padre legalizzazione dei matrimonio per gli omosessuali legalizzazione del controllo delle donne e diverse cose diverse calunie ok? questa gente non voglio dire nulla sapete già cosa gli succederà verranno bruciati a breve ok? leggiamo dal libro di Isaia capitolo 5 versetto 20 dice guai a coloro che chiamano i male buono e i bene cattivo che ha messo le tenebre per la luce e la luce per le tenebre che ha messo amaro per dolce e dolce per amaro guai a quelli che sono saggi ai loro propri occhi e prudenti ai loro propri occhi eh sì, questa gente sono saggi e prudenti ai loro occhi infatti il mondo, visto che il mondo non agisce attraverso lo spirito agisce attraverso la carne, il cannale e allora li estima e li vede come potenti, grandi questo vi fa capire che molti sono chiamati e pochi sono scelti come il video che ho fatto ieri e come avevo detto questa lezione non sarà lunga andiamo a vedere qui nel libro di Corinzi capitolo 6 versetto 9 dice anzi andiamo lì dice non sapete che gli ingiusti non erediterranno il regno di Yahweh non lasciatevi ingannare né fornicatori, né idolatri né adulteri, né effeminati ok, effeminati uomini, effeminati sta parlando qui né abusatori di se stessi con l'umanità né ladri, né avari, né ubriaconi, né oltreaggiatori né rapidatori e erediterranno il regno di Yahweh ok perciò potete dimenticarlo le vostre così chiamate celebrità i vostri politici, i legislatori i grandi, i più stimati della società questa gente solo se non cambiano e cominciano a chiamare il nome del padre Yahweh e il nome del suo figlio Yahweh Shai e chiedere perdono questa gente saranno distrutti e non erediteranno il regno del cielo come è scritto qui fate attenzione ciò che vengono ciò che trasmettono a ognuno di voi perché questi artisti sono disperati non ne frega niente possono dire qualunque cosa che vogliono nella musica anche se gli costa girando il vero chiamandolo bugia e chiamare la bugia la verità non ne frega niente vogliono fare solamente i loro soldi vogliono avere la stima e il rispetto dal mondo noi ricordatevi che non possiamo accontentare il padre con 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 il nostro corpo carnale non possiamo accontentare il padre con i pensieri carnali il padre si accontenta si adora nello spirito perciò venite fuori da questo mondo ora che è possibile ancora ora che avete in tempo ancora fate tutto quello che dovete fare venite fuori pregate al padre jahua e al suo figlio jahua shai per aiutarvi e venite fuori da questo mondo che sta andando verso la distruzione e sarà breve come avevo detto prima questa è una lezione breve così sono stato ispirato di condividere questi due versetti spero che ha edificato qualcuno e lascio tutto nel sacro nome del padre jahua nel nome del suo figlio jahua shai mi do più onori agli apostoli e anziani della great millstone gms per avermi insegnato questa verità e alla prossima shalom grazie a tutti